una corsa contro il tempo non va bene per niente quando scompare una persona troppo tardi e la sua legge non può farci niente per salvare la figlia che non sapeva di avere è stato un incidente su un'isola che custodisce un antico segreto noi qui abbiamo le nostre credenze anche se la vittima è consenziente l'omicidio è omicidio per il ciclo oltre l'ignoto sta per accadere qualcosa di terribile il prescelto giovedì alle 21 con iris